Nell'assestamento di bilancio, Via Libera in Consiglio regionale ha lo stanziamento di 30 milioni di euro, 2 milioni su 2014, 28 sul 2015, per indire in Lombardia il referendum consultivo sull'autonomia speciale. L'assessore dell'economia Massimo Garavaglia ha annunciato in aula che tale referendum potrebbe essere accorpato a quello sulla legge Fornero, garantendo così un sensibile risparmio sui costi. Respinti gli emendamenti presentati dai gruppi di minoranza che chiedevano di spostare su altri capitoli di bilancio la cifra accantonata per il referendum. Se dovessimo portare in casa l'autonomia e quindi Regione Lombardia statuto speciale, noi risparmieremmo 56 miliardi, quindi un investimento di 30 milioni oggi, che potrebbe sembrare molto, per avere poi un risparmio in futuro di 56 miliardi, che sono tutti i soldi che ogni anno noi regaliamo a Roma, si chiama residuo fiscale, la differenza tra quello che noi versiamo in tasse e quello che Roma ci ridà indietro in trasferimenti, quindi penso che assolutamente sia una cosa intelligente da fare. Riteniamo che quelle risorse potrebbero essere meglio investite a partire da un'esigenza che era anche una promessa del Presidente Maroni, cioè la rivisitazione dei ticket sanitari. Noi diciamo da sempre che se deve essere ticket deve essere riconosciuto in base al reddito, aspettiamo dall'inizio della legislatura questa manovra che non viene. Noi siamo sempre stati favorevoli alle proposte analoghe, due ancora una volta la Lega portate prima in Commissione e in Consiglio, di referendum però nazionali, referendum abrogativi, uno sulla legge Merlin, l'altro sulla legge Fornero, noi li abbiamo votati favorevolmente. In questo caso si tratta di un referendum consultivo, il problema non si risolve affatto con un referendum consultivo e quindi in questo caso stiamo un po' valutando la proposta, i 30 milioni di euro di questa spesa insomma anche secondo noi probabilmente potrebbero essere utilizzati diversamente.